I due influencer si sono lasciati a fine ottobre dopo nove anni d'amore, ed erano d'accordo di non parlarne pubblicamente, fino ad oggi, quando lui si è stancato di essere bollato come traditore. Quello che emerge da un comunicato diffuso in queste ore da Luca Vezil, 31 anni, ex fidanzato di Valentina Ferragni, 29, è che la sorella di Chiara avrebbe concordato con l'ormai ex compagno di non rilasciare dichiarazioni pubbliche nel merito della fine della loro storia arrivata dopo nove anni d'amore. Un silenzio rispettato da Luca, di professione influencer, che però è sbottato di fronte alla pioggia di pettegolezzi su un suo presunto tradimento precedente all'addio alla ragazza. Proprio qualche giorno fa, e più precisamente in occasione della notte di Halloween, Vezil è stato infatti immortalato con un'amora dall'identità ignota. I due ballavano davanti ad un locale bevendo un drink. Pare frequentasse poco prima della rottura con l'influencer. Si leggeva sul magazine Chi, che si era affrettato a pubblicare le foto. Foto a cui era seguita una risposta velenosa di Valentina. Ma Luca non ci sta. Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso si legge oggi tra le sue Instagram stories asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione. Quindi mai vista prima e mai più vista in seguito. Tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato. Ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa. Ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto. Facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto. i miei valori, l'affetto della mia famiglia e i miei amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.